L'assemblea congiunta delle associazioni industriali di Alessandria, Novara e Vercelli Valsesia che si è tenuta a Casale Monferrato è stata una tappa importante nel percorso di aggregazione deciso nel mese di luglio quando è stato dato vita ad un supergruppo di industriali associati a Confindustria che raccoglie 1200 aziende con i loro 60.000 dipendenti. Si chiama Confindustria al territorio Piemonte Orientale. Per sancire l'importanza della fusione a questa assemblea del 22 novembre di Casale ha voluto partecipare il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia che ha anche chiuso lavori. Stimolo importante è stato sicuramente anche il messaggio augurale iniziale inviato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi che recitava «Solo facendo squadra, lavorando insieme, si può essere all'altezza della sfida nel mondo globale». Il messaggio di Renzi continuava così «Voi che insegnavate con le vostre squadre a giocare a calcio nella prima metà del secolo scorso potete oggi insegnare alle imprese e alle loro rappresentanze associative a giocare bene unite nella competizione per diventare più forti e far vincere il Made in Italy nel mondo». Chiudeva poi con un «Viva Alessandria, viva Novara, viva Vercelli e viva l'Italia». Prima della presentazione dello studio realizzato dalla Fondazione Edison che illustrava la rilevanza economica nel contesto nazionale e regionale delle tre province ci sono stati gli interventi pieni di entusiasmo dei tre presidenti. «Oggi è, lasciatemi dire, il debutto in società di Confindustria del territorio del Piemonte Orientale. Mettiamo insieme tre associazioni territoriali di imprenditori, tre associazioni estremamente sane che hanno tutte e tre una sostenibilità economica e patrimoniale. le mettiamo insieme perché in questo modo siamo sicuri che avremo la capacità di essere più efficienti, più efficaci, di dare servizi agli associati di un livello più elevato». «È un salto di qualità che faremo, in cui crediamo molto e abbiamo condiviso. Lasciatemi dire che sono molto contento di celebrare questa tappa casale in una location particolarmente bella». «Questo è un passo fondamentale, già il coronamento di una prima parte iniziata già alcuni mesi fa. Qui, come dire, mostriamo a tutti dove stiamo andando e cioè stiamo andando verso la costituzione di una vera e propria entità territoriale unica che si chiamerà Confindustria territoriale Piemonte Orientale. È un primo passo perché la conclusione sarà poi nel giugno del 2018 quando la fusione sarà effettiva». Grazie. Grazie. Grazie.